Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sarà un video un po' speciale. Vi racconto i miei 100 km sulle Dolomiti. Non ci credete? E allora guardate questo video. 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 Se anche questo video vi è piaciuto non dimenticate mai di mettere un like. Condividete e iscrivetevi al canale. Ciao bravo!